eccoci per l'ultimo flash sul bambino nascosto di roberto andò devo necessariamente essere molto sintetico lascio a chi leggerà il romanzo scoprire tutti i passaggi tutte le vicende tumultuose che ci sono di spostamenti di fughe di inseguimenti e voglio sottolineare un aspetto il professor santoro gabriele santoro muta profondamente la propria esistenza un uomo che non aveva mai agito contro quella che poteva essere lo schema abituale della vita è disposto per salvare questo bambino dalle spirali mortifere della mafia addirittura a cercare di acquistare una pistola a mettersi in macchina con il bambino fuggire all'estero a marsiglia a sfidare il giudizio di tutti è veramente l'amore di un padre che ha capito che deve sottrarre questo piccolo alle mafie della mafia però voglio indagare un altro aspetto gabriele santoro ha un fratello renato diverso da lui ha fatto carriera e magistrato e gabriele santoro questo professore di musica non ha mai avuto buoni rapporti perché questo renato rappresentava la legalità rappresentava il rispetto della forma mentre lui agiva più che con la ragione agiva sempre con il cuore con i sentimenti però vuole parlare a questo renato e riesce ad ottenere un colloquio e nel colloquio gli espone ciò che gli sta capitando con questo bambino gli dice che sta ospitando in casa il figlio di un mafioso e che la mafia sta cercando il bambino perché fu testimone di qualcosa che non dovrebbe essere stato visto e renato immediatamente risponde da uomo della legge che lui non può permettersi di giustificare una situazione come questa deve denunciare il fatto di avere in casa un bambino figlio di un mafioso anche perché così facendo diventa complice di un'operazione non lecita anche per così facendo mette a rischio la propria sicurezza e gabriele santoro sta per entrare in commissariato ma al commissariato di cosa si accorge che uno dei funzionari del commissariato è intimamente colluso con i mafiosi del territorio e allora torna indietro e non lo fa rientra a casa e trova che ciro si ha fatto perfino la pipì addosso lo accudisce lo pulisce lo mette a letto e sia gli si accoccola vicino ma la mafia si fa sempre più pressante deve scappare e che cosa sarà alla fine io non vi dico la conclusione del del racconto perché toccherà a voi scoprirlo sarà proprio ciro che riuscirà a ricostruire il rapporto tra renato e gabriele santoro sarà ciro che diventa il custode del testamento spirituale di gabriele santoro a rimettersi in contatto con renato e a tornare su una riflessione che nel nel romanzo era era stata citata molto bene nel colloquio come vi dicevo tra professore gabriele gabriele pianista era nato uomo di diritto creonte e antigone parlano di creonte e antigone e riferimento è all'antigone di sofocle antigone volle seppellire il fratello creonte pensava e reagiva in base alla legge stabilita alla consuetudine quindi sono due simboli di diverse umanità e in questo libro che è un libro fatto di umanità si trovano i simboli di sentimento i simboli della ragione i simboli degli affetti i simboli della giustizia i simboli di una vita che è variegata che riesce a raccogliere una infinità di sfumature dove è difficile stabilire ciò che è giusto e ciò che non è giusto un romanzo fra l'altro scritto anche con una efficacia assoluta con una bellezza anche descrittiva io ve lo consiglio veramente la casa editrice la nave di teseo noi abbiamo avuto al castello di padronello la sorella di sgarbi che è la responsabile di questa casa editrice che cura i volumi con una bellezza sconvolgente e fa una scelta strepitosa dei suoi autori alle sei del mattino il cielo di napoli aveva il colore indefinito dell'albume qualcuno dio aveva sfilacciato l'interno di un uovo gigantesco e si era divertito a cospaggere di macchie gelatinose ogni suo angolo buona lettura con il bambino nascosto di roberto andò la settimana prossima ve ne presenterò un altro un altro libro un altro mondo altre idee grazie per la pazienza